Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in questo nuovo video Fa un caldo pazzesco, ma penso che questo lo sappiate già Poi ho notato che il cielo ha rinominciato ad essere stranuccio tipo bianco, ma va bene Ieri era bellissimo, oggi un po' meno Io comunque sento un gran caldo, però va bene Allora, come avrete letto dal titolo oggi, vi voglio far vedere come faccio l'impacco ai miei capelli Con l'olio di cocco, potrei farlo anche mischiandoci l'olio, sì l'olio, il burro di karité Soltanto che già sento un gran caldo, quindi lasciamo perdere, faccio soltanto con l'olio di cocco Allora, come vedete i miei capelli avevo fatto il nero, sono per i doppi appunti Poi vi faccio vedere anche il risultato finale, comunque Hanno questa colorazione un po' così tubolino, però va bene Allora, ho anche le cuffiette e spero di non fare un casino Ah, poi vi volevo così tanto far vedere queste qua, che se non le conoscete Ora vi faccio vedere, le dovete assolutamente avere, se tendete ad avere il viso lucido O come nel mio caso, la crema solare, che se appiccica il pubbo fa unto Allora, si presenta Ok, ho pulito la fotocamera perché era un po' unto secondo me, vabbè Così Sono praticamente questi foglietti, non so che materiale sia, penso carta E vanno appiccicati qua al viso, così e assorbono tutto l'unto, diciamo Vabbè, va fatto anche meno tempo E come vedete, ecco tutta la patina dell'unto che ha assorbito, guardate Vabbè, comunque io le trovo eccellenti, poi non costano nemmeno tanto sull'interessence E come vedete, eh? ok allora io direi di partire subito però voglio togliere le cuffiette le ho messe per davanti diciamo che non è bellissimo da vedere però guardate ora ho rubato la spazzola mia viglia di brusen è piccolissima comunque ho deciso di fare questo video sui capelli diciamo perché ho scoperto che mi piace un sacco vedere le persone che si toccano i capelli comunque fanno qualcosa ai capelli e quindi ho pensato perché non portare un viso del genere ok oddio e qua ci sarà da ridere perché i miei capelli dovrei tagliarli almeno le punte perché non so magari se vi interessa posso farvi alcuno storytelling story time non so come si chiama sui capelli perché io l'ho vuto di tutti i colori quindi ora sono cresciuti finalmente senza colorazione a parte qualche scuro fatto così ma prima proprio li decoloravo li avevo sempre chiari sui punte appena crescevano li tagliato ma è un disastro invece adesso invece adesso la situazione è decisamente diversa quindi parto con il tirare su i capelli a parte che c'è un caldo ragazzi voi non potete capire poi sto qua nel mio bagno che ho chiuso tutto e è caldissimo allora io non ho tantissimi capelli quindi ok questa postazione comunque mi piace abbastanza basta ho deciso che ho tolto le cuffiette insomma spero che si possa sentire fatemi sapere se qualcuno sa se per caso per i plujetti esiste dove si possono collegare le cuffiette tipo wireless io utilizzo questo qua l'olio di cocco questo ce l'ho in realtà da tanto come potete vedere ora non lo è liquido e niente io praticamente quello che vado a fare è intingere la mano tanto lo uso solo per i capelli l'avevo preso tipo per struccarmi una volta wow oh mio dio è una sensazione super rilassante ma semicale fanno molto bene allora ora comincio a fare questo con la mano mi è caduto anche sulla gamba così per diciamo non esagerare con l'olio anche perché va soltanto distribuito bene non c'è bisogno di metterne un quintale in mezzo però la cuffietta la voglio tenere perché la mia ansia di fare un audio pessimo supera qualsiasi cosa poi giustamente adesso c'è la chiamata di mezzo perché a quest'ora è pomeriggio sono le tre cioè ci sono le chiamate delle confessioni e c'è qualcuno al telefono vabbè sto perdendo un po' i capelli terribili ah no mi sono strappati con questo vabbè quindi poi faccio anche questa parte e continuo a fare così vedete lo distribuisco bene sulle punte proprio un po' di più ecco per questa parte e faccio così perché io più che altro le punte rovinate mamma mia ragazzi sto veramente schiattando di caldo ok traumatico ho messo entrambe le cuffiette ho sentito che si sente la la chiamata che stanno facendo comunque come vi ho detto faccio un po' di suoni così sulle punte ne voglio aggiungere ancora perché come ho detto è molto necessario ci sono anche le zanzoare che mi stanno pizzicando vabbè un po' un po' un po' un po' un po' l'acqua termale come vi ho detto io lo so sempre l'estate ok ho già ho già preso anche un po' di sole non perché mi sono messa giù anche perché non ne ho bisogno quelle volte c'è anche che mi metto veramente durante il sole ne esco come i miei capelli quindi metto solo protezione solare però mi ha già preso poi vado a sciogliere questi qua mi sembro un uovo sto facendo questa cosa perché i capelli sono straunti quindi terribile proseguiamo continuo sempre con l'olio e faccio così voglio prenderlo con le due mani così questo era quello che volevo quando ho pensato questo video se ne sta andando una gonfietta sento sempre il sole più lontano e non so come poterla rimettere però va bene perché ho le mani straute aiuto dopo dovrò tipo pulire tutto con le salvezette e gli disinfettanti perché sgrassano comunque basta basta tutto tutto ok continuo mi prendo un po' più sembra sembra tipo ora vi faccio vedere un po' meglio la sedia di pelle sotto mi sta dando ancora più calore sembra sembra tipo l'effetto bagnato mamma mia ci sono molte modelle che tipo quelle sfilate quello che anche famosi si fanno questo effetto punto bisunto ma a voi piace l'effetto punto bisunto perché a me per niente ecco qua e proseguo così ancora mamma mia comunque penso che li ho impregnati giusto ok continuo a pettinare un po' tanto santo anche che mia mi sta cercando quindi finché dura il registro ecco effetto punto intanto questa cuffietta se ne vuole andare nuovamente ok ci siamo amici e niente ora io mi tengo questi bellissimi unti e bisunti capelli ok ora con questa molletta cerco di raccoglierli perché mi stanno ok va bene sul corpo sul corpo però mi da un fastidio questo punto quindi li vado a legare mamma mia ok amici allora mi dispiace che mi vediate sempre in pessime condizioni comunque ora che ho fatto questo cosa chiudo l'odio perché se per disgrazia mi cade le ho fatti danni per questa settimana quindi a parte che devo tenerlo fortissimo perché mi è scivolato di tutto con queste mani ho scoperto che c'è anche video dei massaggi quindi le porterò sia su di me che su altre persone ecco con la scusa vi faccio un'anteprima dei massaggi e mi ripulisco le mani di questo punto molto bene dicevo come ultima cosa vi lascio anche una clip del risultato finale o comunque vedrete il risultato in un prossimo video cosa più probabile questo lo pubblico subito perché ora li lascerò non a 10 minuti ma ce li lascio comunque ho acquistato questo qua che lo utilizzavo un sacco di tempo fa poi non so per quale motivo ho smesso di comprarlo comunque è questo qua dell'ultradolce che oltre a essere senza parapeni e quindi mi lascia il capello super pulito e leggero mi manca schiarire infatti io questi li ho sempre presi d'estate e schiarisce veramente un sacco i capelli adesso sto cercando di togliere il nero perché non lo farò più basta ho capito che non è più il mio colore e farò semplicemente un castano che mi piace molto di più però visto che appunto sotto l'ho sempre avuto un po' decolorati eccetera ancora è rimasto qualche capello ricolorato e quindi viene su una bella schiaritura ecco quindi ho ripreso quello e mi ci sto trovando di nuovo non sono sorpresa perché comunque lo utilizzavo già e quindi niente niente di nuovo nel senso è un prodotto che mi piace lascia i capelli veramente puliti e cioè voluminosi leggeri quindi mi piace e poi con sorpresa invece ho comprato questo qua della Conat di questa Essentia e vabbè pazzo nutriente Conat si prende cuore di decrazzare la natura durante i suoi ingredienti ogni ricetta combina gli estratti naturali delle piante in una formulazione unica ideale per il tuo corpo il pazzo nutriente ideale per i capelli secchi e svibrati contiene olio di argan e burro di carite che aiutano a trattare e nutrire i capelli ok sono fatta la lettura queste confette escono e niente appunto questo anche molto molto buono molto districante mi è veramente piaciuto un sacco quindi se volete provatelo se avete appunto i capelli tipo i miei come ho fatto vedere all'inizio e costa poco della Conat ma devo dire che è buono basta non devo aggiungere nient'altro e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e spero che appunto vi abbia rilassato insomma questo trattamento che abbiamo fatto insieme se volete riprovarlo con qualsiasi olio di cocco va benissimo e nulla amici io vi saluto vi mando un grandissimo bacio come sempre e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao grazie a tutti